Buongiorno a tutti, oggi la rubrica sportiva all'altra faccia della medaglia vi porta a cavalcare la passione. Ebbene sì, perché questa mattina ci troviamo al maneggio di Fluminiano, nel comune di Talmassons, e ci immergeremo nella routine di Veronica Turco, istruttrice e proprietaria, insieme alla sua famiglia, di questa magnifica struttura. Andiamo a conoscerla. Come inizia la giornata di Veronica? La giornata inizia alle 6 del mattino, quando arrivo per dar da mangiare a tutti i cavalli, e prosegue con il lavoro fatto con ciascuno di loro, per poi proseguire nel pomeriggio, con le lezioni fatte con i bambini e con i ragazzi, fino alla sera, quando di nuovo ci si trova a gestire tutti i lavori serali, mangime, pulizia dei box e via discorrendo, e fino alla chiusura serale. Quando hai scoperto la tua passione per il cavallo? Allora, è una passione che ho sempre avuto, e l'ho realizzata, concretizzata, più o meno verso gli otto anni, quando andavo in giro con i libri dei cavalli a chiedere a mio papà se mi comprava quel cavallo lì, e ce n'era uno nero, che volevo tantissimo. E quindi in realtà è una cosa che ho sempre avuto, ma non ho mai capito da dove fosse nata. Che percorso di studi richiede questa professione? Allora, per diventare istruttore si devono frequentare dei corsi proposti dalla Federazione Italiana Sport Equestria, che si articola sul completamento di diversi livelli. Si parte dall'operatore ludico, poi istruttore di base, poi primo livello, secondo livello e terzo. Questi corsi prevedono una parte teorica di studio di regolamenti, psicologia, tutto quello che può servire appunto per potersi interfacciare col pubblico, con i bambini e ovviamente con le discipline, e poi con una parte pratica in cui si lavora sia sull'accrescimento della conoscenza personale, pratiche, sia con i bambini, quindi si fanno pratica in diversi maneggi, con diversi bambini, anche con bambini che non si sono mai visti, per appunto progredire con le proprie conoscenze e la propria pratica. Essendo istruttrice, ogni pomeriggio, dicevi prima, stai con i più piccoli. Ci racconti un po' cosa succede in mezzo a queste lezioni? In queste lezioni può succedere potenzialmente di tutto, perché essendoci bambini dai più piccoli, 5-6 anni, fino ai più grandi, si ha tutto il ventaglio possibile di situazioni. Sono i bambini un po' più goffi, un po' più esperti, quindi ognuno di loro sono una piccola soddisfazione perché alla fine della lezione arrivano che hanno imparato qualcosa di nuovo e anche inaspettatamente possono fare progressi incredibili. Sei molto soddisfatta come istruttrice? Sì, mi ritengo soddisfatta. Ma è anche impegnativo questo lavoro? È molto impegnativo perché ognuno di loro ha un carattere, ha un potenziale che si sviluppa in modo più o meno rapido, però alla fine tutti portano alla stessa conclusione, a dei piccoli progressi che comunque sono grandi soddisfazioni. Veronica, noi ti ringraziamo per averci aperto le porte del tuo luogo del cuore e quindi un saluto da me, Veronica e anche dai cavalli. Grazie. Grazie.